Dai Marco! Accendi la moto e ti passa! Accendi! Dai Moes! Che mi fai consumare 10.000 video! Dai che ci sono gli effetti speciali. Dai che c'è la nuvoletta, i partotti. Nooo! Eh! Fatemi quello! Che morto! Che morto! No, io veramente ho tentato di farlo, quello che mi sto facendo di dietro. Dai di qua! Fatemi quello! Perché sei arrivato bene. Eh si! È arrivato bello diritto, è andato. Ho preso la pianta! E' già visto che c'è la pianta! Oppa che c'è! Oppa che c'è! Firma! Firma! Pilottone firma! E adesso? Se vai a aiutarlo ti spago! Andiamo! Andiamo! Lo troviamo qua domenica dai! Vai! Va, va, va! Va l'uovo! Va, va! Lo pelico del nonno! Vai! Sì, ma come è venuto fuori i piedi? Che sono spogliato eh! Non lo so! 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 Ho lasciato a correre e poi gli ho dato! Controlla bene il gas che vada eh! Che non che sia accelerato! Bravo! Adesso stai lì vieni su di qua ruzzando! Se vuoi! Se no torni giù! Ma anch'io qua pensavo di andare in merda! Questa cattica la combino! Deve arrivare eh! Quando sei lì a metà più veloce! Devi prendere più velocità sotto! Di modo che quando sei... Non posso stare ai piedi che ho preso la testata! Arrivi più veloce e poi lì vai via morbido senza gasare troppo! Ma devi arrivare più veloce fino a lì a metà! Se arrivi troppo lento devi gasare ancora e ti scivola giù! No! Non riesci! È tutto sgarlato! Di là è più facile ma devi arrivare più veloce! Devi arrivare più forte! Arriva con tutta la forza sotto e poi quando arrivi lì in alto chiudi appena appena vai via lento! No! Se la fa giusta la fa bene! Se no ti siedi e vieni sul canale! Se no è a mezzogiorno è ora di andare a cambio! Non arrivi poi non la prendi con noi eh! Io ti direi di provarla ancora di lì molto più veloce sotto e quando arrivi su chiudi e vai via lento! Ma basta fare gambe lunghe lì! Che basta si mette sopra il manubrio! È l'unico che ha centrato la pianta! Eh! No!